Sì, scivolone contro Catirno che non fa mai piacere perdere, comunque siamo ripartiti subito, abbiamo due nuovi innesti come si è visto domenica, stiamo facendo integrare. Sabato vogliamo finire la stagione regolare vincendo. La tua stagione sta andando molto bene, è la prima vera stagione dopo la passata in quale ti prendi le responsabilità che ti devi prendere, sei molto giovane ancora, come sta andando e soprattutto se hai ancora fame in vista di questi playoff che stanno arrivando? Fame sicuramente, giovane un po' meno, ma comunque, tutto il gruppo mi dà fiducia, quest'anno sta andando, non dico alla grande, però sta andando bene, tutti mi hanno fiducia, il coach mi dà molta fiducia e spero di chiudere alla grande con i playoff, speriamo bene. Ultima partita, come dicevi, di stagione regolare a Catania contro una squadra che è fanalino di coda della classifica, quanto è importante però già dare una buona prova di sé, una buona immagine di sé in vista dei playoff che poi cominceranno subito, ossia la domenica successiva? Sì, fanalino di coda, ma si sono rinforzati, hanno preso un paio di giocatori, è importante vincere perché vincendo fa sempre bene, quindi finiamo la stagione regolare bene e poi ci aspettiamo i playoff. Grazie a tutti.